Ovviamente alla fine abbiamo saputo un po' tutto di quello che è successo ieri nell'udienza che riguarda l'incandidabilità di alcuni ex assessori ed ex consigliere comunale del Comune di Partinico per cui si è sciolto per l'impostazione mafiosa. L'udienza era dedicata e si è tenuta per un reclamo dell'ex assessore Maria Grazia Motisi. A questo reclamo si è accodato l'ex consigliere Gioacchino Albiolo che per dei qui pro quo c'è stato qualcosa che non andava per quanto riguarda la sua presenza e quindi c'era questa possibilità che rimanesse già incandidabile a priori a prescindere ed è successo semplicemente che è stata l'udienza rinviata insieme e unificata insieme alle altre persone che terranno questa udienza d'appello che è prevista per il prossimo 9 settembre. Attenzione, questa udienza per il prossimo 9 settembre è prevista per Maria Grazia Motisi, per Gioacchino Albiolo, per Monica Supporta e per Rosi Pennino. Perché? Perché gli altri tre sono già definitivi, cioè nel senso che Angela Alanda, Vito Giuliano e Alessio Di Capri non hanno presentato appello e per questo sono incandidabili, già incandidabili per i prossimi 10 anni. Quindi si rimane in attesa di questa udienza a settembre per vedere di queste persone chi sarà incandidabile e chi potrà candidarsi eventualmente per le amministrative di novembre.